All'Università degli Studi di Torino l'inaugurazione della terza edizione del Master di secondo livello in qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte. È un'iniziativa formativa di terzo livello che si rivolge a laureati in diverse discipline per approfondire le loro conoscenze e offrire delle competenze specialistiche per chi si vuole inserire nel mondo lavorativo nell'ambito della filiera del latte. Qual è l'offerta formativa? L'offerta formativa è l'offerta che noi facciamo ai giovani laureati di competenze che vengono ricavate da Accademia, dal mondo del lavoro, da realtà territoriali importanti che possono portare la loro esperienza per accrescere le conoscenze, le competenze e le abilità del giovane laureato. Quali gli sbocchi professionali per questo studio? Gli sbocchi professionali sono diversi e riguardano tutta la filiera del latte, un po' è questa la caratteristica del latte, di avere uno sguardo a 360 gradi sulla filiera. Quindi le diverse aziende che per motivi diversi si inseriscono nell'ambito della filiera, dalla produzione primaria, quindi dall'azienda zootecnica vera e propria, fino alle aziende di trasformazione, dall'ambito dolciario, lattiero caseario o anche in quelle realtà che utilizzano latte o parte delle componenti del latte come proteine, come materie prime per poi ottenere dei prodotti di tipo diverso. Alcune delle discipline affrontate? Partiamo da materie che riguardano soprattutto l'alimentazione per poi arrivare all'edilizia zootecnica, la sanità animale attraverso l'analisi dei fattori di predisposizione alle mastiti, il benessere animale, la genetica, la sicurezza alimentare per poi approdare alla trasformazione lattiero casearia, addirittura al marketing nell'ambito della filiera del latte. Data di inizio e in che luogo verrà ospitato? Il master si svolge a Moretta, è iniziato un paio di settimane fa ma oggi lo inauguriamo in maniera formale. Ha una durata di un anno e prevede nell'ambito della formazione un ampio spazio, 400 ore di stage aziendale durante il quale i nostri ragazzi andranno direttamente nelle aziende a completare la loro formazione.